il risultato è quello di non avere più ansia da presanzione. Nella pratica a me si manifesta in un'erezione incredibile e più andiamo avanti nei giorni di pensione, soprattutto dopo 3-4 rapporti senza evoluzione, l'erezione è veramente una potenza, oltre alla potenza fisica, la potenza penetrativa del cuore, molto molto intensa, molto piacevole anche in uno stato di totale rilassamento senza nessuna contrazione. Una volta che l'uomo risolve completamente l'ansia da prestazione, perché migliorano le erezioni? Perché si sta nel sistema nervoso parassimpatico, infatti? Perché affinché tutto funzioni bene, la nostra energia sessuale, per avere una buona erezione, per avere anche una buona durata, è l'importante che ci sia uno spazio sessuale rilassato. Quindi quando noi riusciamo, come tu hai descritto, a vivere serenamente la camera da letto, il sesso, la relazione affettiva e amorosa e sessuale, il nostro corpo dà il meglio, perché è completamente rilassato, e lì sì che fluisce tutta l'energia, l'erezione è incredibile, facendo la ritenzione del seme, aumenta il vigore e la forza maschile. Un sogno, insomma, quello di essere riuscito a rilassarmi, come abbiamo visto poi nella nostra sessione, è comunque un work in progress, è comunque un lavoro che si continuerà a fare, però sono contento di essere finalmente arrivato a questa armonia, a questa pace. L'orcasmo con eagulazione ha comunque cambiato forma, anche perché lo si sceglie, non si è più semplicemente schiavi della macchina biologica, istintiva, dove l'unico risultato è quello di eagulare, ma lo si sceglie, quindi comunque c'è un... Io sono una coscienza dietro molto più forte che sta a vivere anche l'eagulazione, molto più potentemente. Quindi questo è molto bello, i rapporti vanno avanti molto bene, sia come tempi, sia come piacere reciproco. La pratica della ritenzione del seme ha sicuramente contribuito a un innalzamento dell'energia che mi ha aiutato e coadiuvato proprio nell'avere rapporti più intensi ed un'energia proprio sottocutanea che mi accompagna durante il rapporto e poi durante la giornata e anche poi nei giorni successivi. Cerco di ritenere nell'arco della settimana due settimane. Questo è quello che mediamente mi sta accompagnando come pratica di ritenzione. Quindi facendo rapporti, diciamo, una-due settimane avendo rapporti. Sì, esatto. Un piacere irradiante in ogni millimetro della pelle che però accompagna, insomma. Quindi non lascia, non va via. Forse la differenza è questa. Qualcosa che non va via, qualcosa che ti accompagna. La qualità dell'energia cambia. Ci si innamora di queste energie. E quindi... Hai detto bene, Fra. Bello, sì, questo paragone che fai, no? Che ci si innamora, in verità, della propria energia. E quindi è lì, no? Che sorge una consapevolezza che ti rendi conto che stare in contatto con questa energia ti nutre, ti fa sentire bene. E questo piacere non è qualcosa di effimero come l'eiaculazione, è un grande piacere. Però è momentaneo, dura qualche secondo. Mentre questa energia ti accompagna, no? Ti connette, ti collega, anche con la partner. Sono strafelice. Sono strafelice, stracontento. Grazie a te, sempre a te. Insomma, rispetto a tutto quello che ha portato in questo cammino della mia vita. Quindi, sempre grazie più a te.